Le giornate del Festival Francescano di Rimini sono un'occasione anche per conoscere libri, per conoscere autori di libri e infatti siamo qui con fra Pietro Maranesi, frate Cappuccino, autore di un volume che si intitola Fate attenzione fratelli, dedicato alle ammonizioni di San Francesco di Assisi. Allora, che cos'è? San Francesco fa l'arbitro che ammonisce i giocatori, che ammonizioni solo. Ammonisci i suoi frati. Le ammonizioni di Francesco le ho tradotte così, fate attenzione fratelli, perché sono parole, il sottotitolo dice, per conoscere se stessi. C'è questo doppio movimento, Francesco dice fate attenzione alle mie parole perché queste vi aiuteranno a fare attenzione alle vostre parole che avete nel cuore, alla vostra verità. Questo è il processo di verità e dunque di attenzione a cui Francesco invita i suoi frati. Senti, ma sono ancora attuali questo tipo di ammonizioni? Che senso hanno adesso riportare un testo che comunque ha 800 anni ad oggi a noi? In fondo parlava ai suoi frati. Indubbiamente sono testi che vanno un attimino aperti con una certa attenzione perché non hanno apparentemente una capacità di parlare subito e velocemente. Però Francesco parla degli uomini con le stesse paure e le stesse gioie nostre. E hanno questi testi ancora un'efficacia incredibile di aiutarci a questo atto di verità perché è la verità che fa liberi e la libertà dà gioia. Questo è il processo che potrebbero e sono capaci questi testi di offrire a chi li elegge con questo spirito attento, desideroso e libero. Senti, il tema del festival di quest'anno è la letizia, la gioia. Ecco, delle ammonizioni apparentemente sembrerebbero su un altro piano, più che un piano di gioia o un piano di paura? No, no, no. Dentro i testi di Francesco non c'è mai la possibilità di incontrare la paura. Non c'è questo pericolo. C'è un ritornello che ricorre dall'ammunizione 16 fino alla fine e dice beato il servo che? Il ritornello è essere beati, cioè trovare motivi di gioia di essere qua in questo mondo. E dice Francesco si può essere beati soltanto attraverso una scelta antropologica, cioè quella dell'essere servo l'uno all'altro, quello del regalarsi reciprocamente. Perché questo meccanismo elimina ogni pericolo di guerra. E la vera paura è la morte che l'altro mi può procurare. Il servizio libera da questa paura. Allora, ricordiamo questo volume uscito recentemente, edizioni Porziuncola, fate attenzione fratelli, l'autore Fra Pietro Maranesi.